Si scaldano i motori per l'avvio della 59esima edizione della Tirreno Adriatico in programma dal 4 al 10 marzo. C'è tanto Abruzzo con la quarta tappa del 7 marzo che partirà da Arroni in provincia di Terni e arriverà a Giulianova. La quinta invece, quella dell'8 marzo, sarà tutta abruzzese. Da Torricella si cura a Valle Castellana passando per San Giacomo, frazione molto dura. Tantissima vetrina, un momento di promozione e valorizzazione di tutto il territorio provinciale. La quarta tappa che finisce Giulianova valorizzerà in particolare la costa e Giulianova, la perla, il centro della nostra costa. Ma la quinta è tutta della provincia di Teramo, parte in un comune montano terremotato, fa il giro su dei comuni che sono collinari, quindi con ampia valorizzazione di tutta quell'offerta paesaggistica, culturale, storica che noi abbiamo per arrivare a un altro comune che è Valle Castellana, anch'esso montano. La corsa ai due mari toccherà nel suo viaggio 1115 chilometri, quattro regioni del centro Italia partendo dalla Toscana e passando per Umbria e Abruzzo, prima di concludersi come la tradizione nelle marche. Grande la partecipazione di ciclisti provenienti da tutto il mondo. Sono 180 iscritti, c'è un parterre di ciclisti importanti, tra cui l'ultimo vincitore del Tour de France, Vingegaard, dell'anno scorso. A livello promozionale e turistico sarà veramente una vetrina importante perché comunque la terremoto triatico è trasmessa in Eurovisione su 180 paesi al mondo, con un parterre di ascolto di circa 600 milioni ogni tappa. La provincia di Tenomo avrà quindi la possibilità di mostrare le sue bellezze storiche, paesaggistiche e culturali a milioni di spettatori, questo grazie alla trasmissione dell'evento in diretta in 193 paesi di tutto il mondo. Noi come consorzio siamo stati sempre attenti al marketing territoriale, quindi al turismo, alla promozione dei nostri territori, e la tirana triatica come il kermes e la ciliegina sulla torta. Volevamo fare un'importante manifestazione e quindi abbiamo scelto il ciclismo, abbiamo scelto un'importante manifestazione internazionale e abbracciando mare e montagna perché comunque avremo tre territori protagonisti di questi giorni, 7 e 8 marzo, per cui saremo molto soddisfatti. Noi siamo stati i primi a dare il là a questa organizzazione, poi si sono accodati tutti in maniera molto puntuale e molto benevola.